Sintaco, la conferenza di oggi che cosa ha come tema? Il tema è essenzialmente uno. C'è una legge del Parlamento nazionale che prevede la possibilità per gli enti locali di presentare istanze per poter avere finanziamenti per sistemare le palestre, i palazzetti dello sport, tutte le strutture sportive. Noi abbiamo potuto presentare in questa maniera quattro progetti, con i tre dei quali interveniamo direttamente sulle palestre delle scuole, in maniera particolare su Bersagliere Urso, via Agrigento, le scuole elementari di via Agrigento ed anche un'altra scuola che è la Guarino. Analogo progetto abbiamo fatto per il palazzetto dello sport, per sistemare il tetto che, come è noto, purtroppo è stato attraversato da una serie di problematiche che ne hanno impedito l'uso razionale e continuo e costante di questa grande struttura sportiva che abbiamo nella nostra città. Abbiamo assunto un impegno con la città, siamo stati sollecitati in questa direzione anche dall'onorevole Moscati, abbiamo mantenuto l'impegno assunto in una riunione che abbiamo avuto con un gruppo di lavoro di giovani di Favara e quindi oggi possiamo dire che ieri, verso le 13.30, abbiamo spedito al Governo nazionale una proposta contenente quattro richieste di intervento, ciascuno dei quali è pari a 100.000 euro. Quindi, come si vede, complessivamente 400.000 euro per recuperare alcune strutture sportive di Favara. Per quanto riguarda il palazzetto dello sport, insomma un'entità così importante all'interno del nostro territorio, come mai ancora non si è andati ad usufruire di quelle che sono le energie rinnovabili, tali da poterlo rendere più fruibile? Per la verità noi avevamo fatto, nel dicembre del 2011, quindi appena cinque mesi dopo il mio insediamento, un bando di gara per poter trovare le energie alternative da poter utilizzare nelle strutture pubbliche del nostro Paese. Una gara che è durata a lungo, poi si è stata nominata anche una commissione tecnica per esprimere il giudizio. Proprio l'altro ieri mi diceva all'ufficio contratte che è arrivato la certificazione antimafia della ditta interessata. Ho detto al dipendente che si occupa di questo di invitare la ditta, quindi a provvedere con estrema urgenza alla sottoscrizione del contratto e quindi avviare i lavori. Sendo per la verità, voglio dire subito, anche puzza di bruciato, nel senso che ci arrivano voci non controllate, per la verità che farebbero pensare ad un ripensamento da parte della ditta interessata a fare questo tipo di intervento, se ciò dovesse essere vero i problemi diventerebbero ancora più gravi. Tuttavia voglio dire che anche se questo non dovesse andare a buon fine e poi faremo le nostre analisi e prenderemo i provvedimenti necessari, abbiamo già aderito al patto dei sindaci voluto dal governo regionale e quindi riteniamo di essere inseriti anche in questa direzione per poter utilizzare i soldi europei per l'energia alternativa nelle principali proprietà comunali. Sindaco, quindi è sempre una questione di burocrazia lenta? Sì, la burocrazia purtroppo è lentissima. Ho parlato poco fa di una gara che si è trascenata per un anno e mezzo e forse anche di più. La stessa cosa, ad esempio, potrei dire per le questioni legate all'abitumazione del Paese. Noi abbiamo fatto una gara nel mese di marzo del 2012, siamo arrivati al giugno del 2013, finalmente adesso possiamo solo dire che aspettiamo di avere la documentazione da parte della ditta interessata che abbiamo già incontrato la settimana scorsa per poter finalmente partire. Non è possibile che una gara abbia dei tempi così lunghi perché purtroppo si interviene spessissimo con i ricorsi. Perché tra la ditta che si aggiudica al lavoro e la ditta che è immediatamente dopo c'è uno scarto di millesimi e ognuno pensa, beh, se hanno sbagliato a fare i conti. Allora, per un sapere leggere e scrivere, subito si fa il ricorso. Il ricorso va al Tarri, poi ci sono sospensivi, a volte poi ci sono di nuovo elementi aggiuntivi come è stato per l'abitumazione delle strade e quindi altri motivi aggiunti successivamente alla pronuncia del Tarri però alla fine il Tarri ha dato ragione al Comune di Favara che aveva giusto individuato la ditta che si era giudicata ai lavori. Ripeto, io spero adesso, entro i primi del mese di luglio, di poter essere in condizioni di poter incominciare ad asfaltare le strade del nostro Paese e quindi eliminare parecchie, parecchie, parecchie buche che purtroppo esistono e su cui non abbiamo responsabilità diretta come si vede perché noi avevamo fatto questo progetto ripeto nel marzo del 2012. Sindaco, mi scusi un attimo, è possibile che la sua amministrazione vive il malessere delle amministrazioni passate? Ma questo incide sempre perché c'è la cosiddetta continuità amministrativa sia nel bene che nel male però bisogna onestamente dire. Noi abbiamo oggi difficoltà di esempio finanziare che sono il frutto di tantissima amministrazione comunale che da 30 anni a questa parte ciascuno ha lasciato un debito e oggi siamo a circa 15 milioni di euro di debiti con cui dobbiamo fare i conti. Abbiamo chiesto proprio un finanziamento in questi giorni, più che un finanziamento un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti ci ha accordato il 60% di quanto da noi richiesto per poter pagare le ditte che operano nel settore e così rimettiamo in gioco anche l'economia rimettiamo in gioco il lavoro e soprattutto diamo certezza alle ditte che hanno già lavorato per il nostro comune di avere i soldi che spettano loro per un lavoro svolto a favore della città di Favara.